Giorno 3 di antibracconaggio a Cipro. Questa notte abbiamo sentito dei richiami che i bracconieri utilizzano per attirare gli uccelli vicino a una casa, quindi ci siamo appostati sotto questo bellissimo albero di olivo e abbiamo aspettato per circa 3 ore e mezza, 4. Alle 7 circa è arrivato il bracconiere, noi siamo usciti per andare a fermarlo barra parlargli e per fortuna era tranquillissimo, non era nemmeno sorpreso di vederci, non so per quale motivo, anzi ci ha detto ma sì per noi, ovviamente in inglese, ma sì per noi qua a Cipro è una tradizione catturare e uccidere gli uccelli proprio tranquillamente. Poi si è rifugiato in casa e si è chiuso dentro e noi abbiamo chiamato le guardie e la polizia e nel frattempo abbiamo trovato questo. Tre reti alte diverse metri che questo bracconiere teneva proprio in giardino e all'interno ci sono già molti uccelli intrappolati, in sottofondo sentite il richiamo. In totale circa una ventina di uccelli, questo ad esempio è un usignolo, una povera capiniera tutta incastrata nella rete, un forapaglie, guardate quanto è carino, e tanti altri che per fortuna abbiamo subito liberato. Quindi anche oggi un bel successo, ecco qua la liberazione dell'usignolo. E per oggi è tutto, stasera sveglia mezzanotte e si riparte, ci vediamo domani.